Nonostante la penalizzazione in classifica, l'Avezzano compie miracolo, trioffando a domicilio nei play-out con il Sant'Arcangelo. Clementini che vedono vanificare i propri sforzi, nonostante le vicissitudini societarie, la squadra di galoppa retrocede all'ultimo istante, precipitando nello sconforto evidente su i volti dei protagonisti e nel passaggio in solo i due anni dalla Serie C all'eccellenza. Falomi parte dalla panchina, galoppa Salfida al 3-4-1-2 e i brividi sono proprio giallobru ospiti a crearli dopo una manciata di secondi dal via quando Fanti deve uscire a valanga su Guidi. Lo stesso portiere è costretto a ripetersi al settimo su questo tentativo di De Cerchio, ma passano due giri di lancete e Padovani, servito dall'invio dello stesso Fanti, buca la retroguardia ospite, rimasti incerta. Battistini non può nulla ed esplode così il tifo di casa, chiamato a gran raccolta per un appuntamento che vale la permanenza in Serie D. Padovani dopo i gol ci prende gusto e svetta di testa chiamando Battistini alla risposta in corner, padronanza territoriale di marca locale che prosegue, Crasso mette al centro e la doppia battuta di Di Renzo si perde sul fondo. Il Sant'Alcangelo però ha merito di rimanere in partita, lo scatenato del cerchio va vicinissimo al pari, centrando un'incredibile traversa, su capovolgimento di fronte e Di Renzo a sfiorare nuovamente la marcatura con un bolide dalla distanza. La gara rimane bella vincente, a mettere la cirurgia sulla torta ci pensa Pierantozzi con una sforbiciata spettacolare ma a centrale Battistini c'è. Lo stesso portiere ospite commette poco dopo un'ingenuità, Padovani ruba palla, mette al centro dove la botta del compagno Brumi viene intercettata con il braccio da Corvino. Trattasi di penati, dagli 11 metri si presenta inizialmente Brumi ma con la Vito squalificato e presente in tribuna ordina Padovani. Dagli 11 metri l'attaccante si ripete e si grandola, personale doppietta 2-0 e squadre a riposo. Nella ripresa un brivido in area bruzzese viene risolto in fine dalla presa aerea del portiere di casa ma la risposta bianco-verde perviene per opera di De Rocis. Battistini vuole a negare la gioia dei gol mentre sullo stranum di Grazioso l'estremo ospite rimane di sasso con il pallone che fa la barba al palo. Nel frattempo il Sant'Arcangio getta nella mischia anche Falomi ma il più pericoloso rimane De Cerchio che da calcio piazzato chiama all'intervento Fanti. Nel finale il Sant'Arcangio riappe i giochi, cross di Bencivenga per il colpo di testa vincente di Bernardi. A questo punto si aprono gli spazi, i conti di potenza va via all'avversario con Battistini che ci mette una pezza sul ribaltamento di fronte la volta del solito De Cerchio ma la mira è da dimenticare e dopo sei minuti di recupero l'Avezzano può finalmente festeggiare la meritata salvezza spedendo all'inferno un Sant'Arcangelo che ha spirito e determinazione da vendere ma che deve fare in mia colpa per tanti problemi interni che hanno condizionato questa travagliata stagione.